Gialluca Pini, lei chiede che venga ritirato il passaporto e raddoppiate le pene per terrorismo, per quale tipo di persone? Più che per terrorismo, per chi in qualche modo inneggia il terrorismo, per chi fa... Il reatto propriamente si chiama apologia, però non scadiamo in quello che sono reati di opinione, perché non c'entra niente sostenere il terrorismo con un'opinione. L'opinione è quella che sostiene un tema democratico, nel momento in cui si usa la violenza non può più essere considerato libertà di espressione e di opinione, ma è semplicemente il sostegno a un atto di violenza che spesso e volentieri colpisce degli interi popoli. Quindi questo deve essere perseguito con un raddoppio delle pene per i reati che già esistono, legati all'opologia, e estendendoli anche a tutti quei regimi totalitari che non sono solo come hanno voluto i compagni di natura nazifascista, ma anche di natura comunista. Comunque adesso la focalizzazione è su come inserire nel nostro ordinamento delle norme che permettono ai magistrati, alle forze dell'ordine e anche, se vogliamo, ai servizi di operare dei fermi, di operare dei blocchi, di operare in qualche modo delle soluzioni tali per cui queste persone non solo non possano fare del proselitismo attraverso i social, attraverso l'espressione di sostegno a atti terroristici, ma che sia anche limitata la possibilità di muoversi e quindi di raggiungere non solo scenari di guerra ma anche di tornare da scenari di guerra. E questo lo si può fare solo attraverso il sequestro di quello che è il titolo di viaggio principale, cioè il passaporto.